Vittorio Emanuele II fu re del nuovo regno d'Italia. Il voto era riservato ai soli cittadini maschi di 24 anni, capaci di leggere e di scrivere, con una certa ricchezza e quindi parliamo di suffragio universale maschile sulla base del censo, ma di 25 milioni di abitanti questi rappresentavano una piccola parte. Cioè il voto spettava soltanto a 500 mila italiani, banchieri, industriali, ricchi commercianti e proprietari terrieri. Ai soli cittadini maschi di 24 anni, sopra i 24 anni, era data la possibilità di votare i deputati. I deputati erano suddivisi tra deputati di destra, che erano i seguaci di Cavour, monarchici liberali, e cioè la maggioranza, rappresentavano più del 51% dei voti, e la sinistra, seguaci di Mazzini e Garibaldi. I repubblicani democratici. Opposizione. Cioè, al contrario alla politica di governo. In Italia c'erano molte differenze tra le varie regioni e aree. Ognuno dei vecchi stati aveva le sue leggi, la sua moneta, abitudini di vita, lingue, trasporti. Al nord, ad esempio, c'erano le ferrovie, al sud non esistevano. C'era un forte tasso di analfabetismo al sud. La destra, quindi, doveva unificare il paese. Alcuni pensavano ad uno Stato federale, ma c'era il rischio che l'Italia potesse di nuovo dividersi. E quindi non andò in porto. Si stabilì, invece, un Stato accentrato, in cui il governo centrale detiene i poteri, con un'unica legislazione e un unico sistema amministrativo. Lo statuto Albertino. Il territorio fu diviso in province, con un prefetto e con dei sindaci. Prefetto e sindaco di nomina Regia, per controllare i comuni. Nel momento dell'unificazione l'Italia era povera e arretrata. Le industrie comparivano solo in Lombardia e Liguria. Le aziende agricole erano presenti soltanto al nord. Al sud c'erano soltanto proprietari terrieri, latifondisti e contadini che vivevano in miseria. La destra, con le gole principali città italiane nel 1871 e triplicata la rete ferroviaria, affidarono a imprese straniere lo sviluppo della rete ferroviaria, perché le imprese italiane erano poco sviluppate. Furono aboliti i dazzi e le dogane e, per questo motivo, però, alcune aziende del sud che beneficiavano dei dazzi chiusero. La destra creò il mercato nazionale, l'adozione della lira, e creò l'esercito comune. Fu esteso l'obbligo del servizio militare, che nel sud significava meno risorse dedicate all'agricoltura per costruire le ferrovie e le strade, per mantenere l'esercito e per coprire i debiti dei regni annessi dopo l'unificazione e per sostenere le guerre per l'unificazione lo Stato aveva bisogno di molte risorse e quindi entrò in deficit, cioè i costi superarono le entrate del 60%. Per ottenere il pareggio imposero le tasse, tasse dirette pagate in proporzione al reddito e indirette applicate ai beni di consumo. Nel 1860 furono imposte le tasse sul macinato. Aumentò così il prezzo del pane, che colpì i più poveri. Quindi la destra riuscì a ottenere il pareggio di bilancio, per cui i costi ed entrate risultano uguali, ma ci fu un grande malcontento, perché colpì i più poveri.